L'Atalanta batte lo Shakhtar per 3-0 e incredibilmente accede agli ottavi di Champions League. Guardate, io sono senza parole e senza barba, perché ieri sera ho pagato pegno e mai rasatura più lieta di quella che ho fatto. È difficilissimo fare questo video. Quando abbiamo iniziato anni fa, Harli, mai mi si era aspettato di trovarmi in questa circostanza e questo la dice lunga sul percorso che abbiamo fatto. L'istinto sarebbe quello di prendere una bottiglia di spumante, fingere di saper sciabolare, fingere tra l'altro di avere anche una sciabola, una spada, insomma, quello che si usa, e far volare alcohol su tutto lo schermo. Ma la sfida di questa rubrica è quella di parlare di calcio nel bene e nel male. Quindi se riusciamo a essere tranquilli, seri, oggettivi, quando mi verrebbe voglia di spaccare l'armadio a testate, dobbiamo riuscire a farlo anche quando l'unica cosa che si vorrebbe fare è saltare dalla gioia. Io penso che la partita di ieri sia uno spaccato perfetto di che cosa serve per essere una grande squadra. È davvero una roba che uno se la deve salvare. Quando vuoi spiegare a qualcuno come si costruisce una grande squadra, come si diventa grandi, come si sta ai vertici per diversi anni dalla Serie A, proveniendo dal niente, come si entra nelle sedici squadre più forti d'Europa, io lo fai vedere e capisco tutto. Serve innanzitutto una rosa competitiva, perché Gasperini ha dei meriti enormi. Ma ricordiamo che Gasperini non è in campo a spingere Castagne e Gossens a correre come dei matti, non è a spostare la palla di Papu Gomez per fare dei tunnel. Quindi grande merito va anche a colui che ha selezionato questi giocatori, che magari quando sono arrivati non erano sulla prima pagina della Gazzetta, ma a conti fatti hanno dimostrato un grandissimo valore. Poi spesso quando se ne vanno il loro valore diventa più altalenante, ma quello è il problema degli altri che non sono capaci ad adattarli. Non è che la gente appena esce da Zingonia ha un calo di rendimento. Quindi serve un nucleo importante e non dimentichiamoci che abbiamo giocato Don senza un paio di innesti, senza Zapata, senza Ilicic e senza Toroi. Guardate che è una squadra di alta classifica senza tre perni del genere e che riesce a fare la prestazione che ha fatto. È una squadra di una solidità incredibile, perché questa roba qua è passata un po' in sordina, ma squadroni senza i due o tre perni su cui è costruita la squadra, perché poi parliamoci, ci manca Gomez e poi i perni quelli sono, sono allo sbando. Non voglio far paragoni con altre squadre perché non mi interessa, però teniamoci alla mente questa cosa perché abbiamo fatto una roba pazzesca. Quindi serve un grande organico, serve una grande mentalità, perché quella di ieri è una mentalità da grande squadra, non è solo una mentalità da grande squadra, ma anche una grande mentalità, pennello cinghiale. Perché avevamo contro tutti, in trasferta, un solo risultato disponibile, meno esperienza e siamo riusciti ad andare là a imporre il nostro gioco. Io non credo di essere di parte a dire che gran parte della partita l'Atalanta ha avuto il pallino della situazione. Certo, poi in Champions League per forza devi subire degli attacchi, per forza ci sono degli spunti degli avversari, anche molto pericolosi, perché ovviamente non ci arrivi in Champions altrimenti, ma ai punti, non solo guardando le reti, l'Atalanta ha meritato ampiamente di vincere. E di questa cosa dobbiamo esserne fieri ed orgogliosi, perché è una prova di maturità, ma è una prova anche di solidità, non da poco. Abbiamo preso un gol, poi è stato annullato, però quello poteva destabilizzare, invece abbiamo spinto ancora di più. A un certo punto abbiamo tolto un difensore per mettere un offensivo e se prendevamo un gol era finita, non abbiamo avuto problemi. Poi è servito mettere un'altra volta un difensore, abbiamo messo un ragazzo che avrà giocato 20 minuti in due anni. Nessun problema. C'è anche una fiducia nell'organico, che è una roba importantissima. L'ingresso, per esempio, di Ibanez, che è una roba stupida, significa che davvero tutti valgono. Poi ovviamente si scende in campo in 11 più 3, però concedere anche la possibilità a quel giocatore lì, che è vero, non c'erano tante altre soluzioni, però si può sempre trovare qualcos'altro, ti fa capire che questa squadra nel collettivo ha una forza e una solidità notevole. E poi l'ultimo punto, lasciatemi dire, ti serve anche fortuna, perché il fatto che Muriel non sia stato espulso, al netto del fatto che il primo giallo era molto discutibile, meriterebbe un pellegrinaggio alla Madonna di Caravaggio e poi di ritorno fermarsi alla Madonna Nardesio, come minimo. Altro non commento l'atteggiamento del giocatore, perché sono in clima di festa, ma me lo segno. Così come il rosso che ha preso lo Shakhtar, bello abbondante. Però il calcio è fatto anche di questi episodi. I latini dicono che la fortuna aiuta gli audaci, dicevano che la fortuna aiuta gli audaci, e credo che questo sia stato il caso. Insomma, è una partita che resterà nella nostra storia, nella nostra memoria, nei nostri ricordi. Ieri poi a Orio ero giù, vedrai l'entusiasmo intergenerazionale, vecchi, giovani, bambini. È stato qualcosa di davvero impressionante, che ti riempie il cuore di gioia. Adesso però dobbiamo comportarci da grande squadra e andare in campionato a fare la partita e portare a casa tre punti. Perché per essere una grande squadra serve anche la continuità. Quindi testa bassa, lavorare e maglia sudata sempre. Io vi ringrazio davvero tanto, vi lascio tutti i miei riferimenti in descrizione e come al solito vi rimando per tutti i contenuti ad atalantini.com Ciao! Grazie a tutti i miei riferimenti in descrizione! Grazie a tutti i miei riferimenti in descrizione!